Erano in 5.000 ieri sera al Pallarubini di Trieste per l'unica data regionale del tour delle star del rap che sta conquistando i palazzetti delle principali città italiane. Stiamo parlando di J.A.X. Fedez, i re del rap italiano che hanno conquistato i fans con l'unico concerto regionale della loro tournée che li ha visti sul palco assieme. Fans provenienti da tutta la regione, molti di questi giovanissimi che hanno applaudito dal primo all'ultimo pezzo della scaletta, composta dai successi della carriera di entrambi e dalle hit dell'ultimo fortunatissimo album disco di platino comunisti con il Rolex. Tra le canzoni più applaudite, Spirale ovale, Domani smetto, Cigno nero e Magnifico, nonché la hit dell'anno, Vorrei ma non posto, che ha chiuso il concerto. Un live imponente anche a livello scenografico con il palco concepito su più livelli a formare una piramide che simboleggia la società. Sentiamo. Con la tua laurea e nei sogni mantenuto la parola, ma questa sera andiamo in disco, entriamo con il timbro, la mia ragazza porta due samiche single, con questa boccia ci paghi l'affitto, sconcare ancora meglio che sei ricco, come il crimine, senza regole. Andavamo ancora al nido, tua mamma e papà ha pesato un fido. E' me nascosti dalla pisiera, io faccio sostenuti, oggi hanno un timido saluto, con la sigaretta in bocca, perché favo movi sui.